La versione 6 di Impiantus Elettrico arricchisce il software di ulteriori funzionalità per agevorare il tecnico nella progettazione degli impianti elettrici. Vediamo quindi le funzionalità introdotte. Nella toolbar del programma è disponibile la funzionalità per accedere alla libreria dei simboli elettrici. È qui che possiamo memorizzare ulteriori simboli elettrici da utilizzare nei progetti, importandoli come blocchi in formato DXF o DVG. È possibile organizzare la libreria per categorie, nelle quali importare i relativi simboli, in questo caso una presa UNEL. Per assegnare un simbolo ad un oggetto parametrico basta selezionarlo sulla tavola e spostarsi nella sezione simbolo a destra, attraverso la quale è possibile accedere alla libreria dei simboli elettrici e selezionare quella di interesse. Il simbolo prescelto sarà direttamente visualizzato sull'esecutivo. Nella toolbar superiore della tavola grafica è ora disponibile la funzionalità per accedere alla coordinazione e protezioni in termini di selettività e di backup in base alle tabelle di selettività e di backup dei produttori. Il bottone attiva l'omonima finestra. Nella sezione in alto della finestra sono riportati i circuiti dell'impianto, mentre, attraverso la sezione in calce, è possibile effettuare la coordinazione, scegliendone anche la tipologia. Effettuate le scelte nella sezione in alto, i dispositivi oggetto di coordinazione vengono indicati con un'icona di colore rosso per evidenziarli rispetto a quelli non coordinati. A calcolo eseguito è ora disponibile la nuova funzione per interrogare il riepilogo della coordinazione delle protezioni. Attraverso le pagine selettività e backup, nelle quali è proposto appunto il riepilogo dei dispositivi coordinati, con il dettaglio del dispositivo a monte e a valle. Mentre in calce è riproposto il grafico delle curve di intervento dei dispositivi selezionati sopra. Possiamo osservare in questo caso la curva con colorazione in blu del dispositivo a valle, che interviene prima della curva con colorazione in rosso riferita al dispositivo a monte. Nella toolbar principale della tavola grafica è ora disponibile l'accesso diretto alla gestione dei coefficienti di contemporaneità. Nell'omonima finestra è riproposto l'albero dei collegamenti elettrici, a partire dall'alimentazione fino ai vari dispositivi di protezione e quindi tutti i punti di connessione dell'impianto, per ognuno dei quali è riportato il valore di Kc e di Kc in minimo, oltre ai valori di potenza e di corrente. Selezionati i punti di connessione su cui agire, attraverso il bottone assegna della toolbar possiamo appunto assegnare in modo automatico un valore di Kc, scegliendolo fra quello minimo o un valore specificato. E' stato aggiornato l'algoritmo per la classificazione dell'impianto in base alla settima edizione della norma CEI 648. Quindi per ogni ambiente viene riportato anche il numero di elementi che si possono installare in altri ambienti ed il totale delle dotazioni che deve essere maggiore o uguale al minimo normativo. Risulta ora possibile definire un cartiglio standard da utilizzare su tutti i quadri dell'impianto. Basterà accedere attraverso il menu opzioni alla finestra per la scelta delle proprietà da inserire nei dati del cartiglio. Nell'archivio produttori sono stati aggiunti i dispositivi di protezione del produttore Schneider. Sono stati aggiornati i codici dei dispositivi Bitticino relativamente al catalogo 2012. Sono state aggiunte le condutture del produttore Gevis.